Avrebbe scavalcato a piedi la rete di protezione dell'autostrada 25 nei pressi del territorio comunale di Popoli, tra la Gran Guizza e l'ospedale, fino a ritrovarsi lungo la carreggiata, quando sarebbe stato investito da un camion in transito. Protagonista della vicenda è un 65enne macedone, da tempo residente in paese, che sarà trasportato in ambulanza nel pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona per sottoporsi ai accertamenti del caso. L'uomo non sarebbe in gravi condizioni, anche se viene tenuto sotto osservazione nel reparto di chirurgia, dopo la diagnosi svolta in pronto soccorso, dopo essere stato sottoposto ad intervento. Le lesioni riportate dall'incidente, che hanno provocato la rottura di alcune costole, sono state giudicate guaribili in 20 giorni. Ancora sconosciute le cause del gesto, come pure la dinamica dell'episodio, è in corso di ricostruzione da parte della Polizia Stradale di Pratola Peligna, che sta svolgendo i dovuti accertamenti sulla tragedia sfiorata. L'ipotesi al momento al baglio degli investigatori è che 65 anni avrebbe deciso di circolare a piedi nel tratto autostradale con il fine ultimo di un gesto estremo, ma gli accertamenti, come detto, sono in corso.